Ad un anno di distanza dall'uscita su Xbox One, Rise arriva in una nuova versione PC, ottimizzata dal punto di vista tecnico ma identica nelle fondamenta ludiche a quella originale. Rise Son of Rome è un action-adventure ambientato nella Roma imperiale, che racconta la storia di Mario Stitus, legionario fresco di arruolamento intenzionato a vendicare la morte del padre. Nonostante alcuni aspetti molto stereotipati del racconto, il plot riesce a salvarsi in extremis grazie ad una narrazione trottante, che con successo richiama i temi dell'epica antica. Il punto di forza della produzione resta però l'ambientazione, con la sua capacità di proporre una visione realistica e palpabile dell'architettura classica, che alterna gli edifici patrizi della capitale alle più modeste strutture in mattoni e legno delle colonie britanniche. Il colpo d'occhio insomma è eccezionale, ma non ci aspettavamo comunque qualcosa di diverso da Crytek. Passando al lato ludico dell'esperienza, Rise Son of Rome presenta un sistema di controllo che va visto sotto una luce diversa da quella di altri esponenti eccellenti del genere action. Le mosse d'attacco a disposizione sono due, una per il gladio e una per lo scudo, cui si aggiungono la parata e la schivata. Notevolmente ridotta appare quindi la varietà di concatenazioni possibili, ma il tutto continua ad avere senso, se considerato nell'ottica di una costruzione ritmata dell'azione, atta a raggiungere l'esecuzione finale. Oltre alle classiche opzioni di upgrade del personaggio, Rise presenta infatti un esteso sistema di potenziamenti legato alle finisher, che contempla più combinazioni a seconda delle posizioni di Marius e del nemico. Alle difficoltà superiori padroneggiare questi strumenti è davvero obbligatorio. Qui il livello di sfida subisce una decisa impennata e ci si trova subito di fronte ai nemici più resistenti e furbi della campagna, in grado di interrompere le nostre combo ed esibirsi in colpi potenti. Diventa ancora più importante la microgestione dei nemici, che vanno indeboliti con metodo in modo da poter concatenare più finisher e così godere degli agognati bonus. A parer nostro, quella difficoltà leggendario è l'esperienza più soddisfacente di Rise, quella che mette a dura prova sia la mente che i riflessi del giocatore, in un contesto ludico altrimenti piuttosto banale. Non doveste essere disposti a lanciarvi sin da subito in una mischia così violenta, infatti sappiate che Rise vi apparirà limitatissimo, scivolando via quasi senza lasciare traccia. Sarebbe un peccato guardarlo solo in quest'ottica, fermare stando una ripetitività evidentissima che purtroppo non è smussata dalla presenza di boss fight convincenti o dalle brevi fasi tattiche di gestione della testuggine, il titolo Crytek ha una sua ragione d'essere, anche per via delle ottime qualità tecniche. Il porting di Rise Son of Rome del resto può essere considerato un successo. In questa incarnazione il gioco riesce a sfruttare egregiamente le potenzialità dell'hardware su cui viene installato, grazie a una buona selezione di effetti grafici. Anche con le impostazioni al minimo la resa grafica di Rise di tutto rispetto, complice lo sblocco del framerate che su Xbox One era invece inchiodato a 30 frame per secondo. Rise ha dunque superato indenne il passaggio da Xbox One a PC, in buona parte grazie alla versatilità e alla scalabilità del CryEngine. Nella sua incarnazione Xbox One, Rise Son of Rome è stato a buona ragione un titolo divisivo, che ha polarizzato la critica tra chi ne ha esaltato lo splendore grafico e chi ne ha stroncato le percepite lacune del gameplay. La versione PC, oltre a offrire opzioni grafiche aggiuntive, potrebbe essere l'occasione per rivalutare a mente fredda questo sistema di controllo, scoprendone così il vero focus. A differenza di un Kratos o di un Dante, che deliziano il giocatore con la violenza e la varietà delle loro combo d'attacco, Marius e Rise hanno come punto di forza la parte finale del conflitto, ovvero quella che precede la morte dell'avversario. Nonostante la ripetitività dell'azione, le otto ore necessarie a portare a termine la campagna scorrono via in maniera tutto sommato gradevole, anche per via delle atmosfere e dell'ambientazione. non sarà un titolo rivoluzionario e non set a nuovi standard per il genere, ma Rise ha un suo carattere ed una sua discreta personalità, soprattutto se giocato ad alti livelli di difficoltà.